A destra Stiamo in manuale qui Eeeh, manuale, si posso cambiare qua? Destra qui? Sinistra? Sinistra A destra qua Un'occhiata a sinistra Andiamo di nuovo La semaforo a destra De peta Ciao Dopo stia più lontano Perché quella Hanno frenato più lungo Non lo passo Quello va troppo piano Lo passo Non lo posso passare? Eh, dipende Che confidenza che c'è Colui? È un amico intimo No, questo non lo venivamo qua su Quello passo un lupo Quello faccio Questa c'è un dritto Quello passo, no, vedete? Quello va piano Eh beh, ma è la potenza Questa c'è a 600 cavalli Eeeh Quella l'aria è a 4,60 No, è dritti? Posso? E soprattutto quella E' 6 quintali più pesanti Allora, rotonda a sinistra A sinistra qua No, qua 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 Destra ancora No, senza che perdiamo la sinistra E destra qua Questa mi dà un giro La macaburata per una volta L'altra volta un suo amico Mangiava le ciliegie Mentre stava con me Qui tu stai tranquillo Mangiava le ciliegie? Le ciliegie Un chilo di ciliegie Ci sta mangiando Collega suo Stava con me Stava di un fianco Fisicamente com'era? No, non male Dai, non era un ciccione Ma quanto tempo fa? 3 anni fa Ah, allora Era bolognese Ho capito chi era Si chiamava Alessandro? Eh, guardarci Si, è un po' pelato Adesso sono cambiata Le corsa Lì c'è un autorelox Dopo un chilometri c'è un altro E da un tempo Quindi bisogna rispettare Che velocità? 70 Ma facciamo un po' l'elastico Adesso c'è qualche punto Che possiamo accelerare un po' di più Si, si Ci vuole bene la prefettura di Marronello Noi ci vuole bene Ma in quei tempi che sono venuto qui Tutti i problemi non ci stavano Sono successi degli incidenti Si Diretto E' successo uno a Bitlane Un 458 da buttare via Quest'inverno E' successo uno a Bustar Una California Dove andiamo dritti? Sempre dritti Da buttare via anche quella Si può passare qua? No, si sente E a noi E' capitato l'F12 120.000 euro di delta Ma non è stato colpa di un altro E' venuto dentro la strada Orale Sai no non c'è tanto e si no lo piacerebbe una volta guardi che frenati ci sono adesso sta fresco dai si è riprescato dentro va bene va benissimo due minuti prima di partire va benissimo adesso sta bene dai l'aria è venuta fuori subito a fredda questa fa paura questa fa paura questo si allora volta a destra qui perché il tempo è dato dal lunedì al venerdì quando ci sono i camion ora se torniamo indietro di qua le rubo un minuto dopo alla rotonda torniamo indietro qui non 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 se non 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 a presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti